Ciao, sono Donato Carlo Giorgio e sono uno studente al quinto ed ultimo anno di Electronics Engineering al Politecnico di Milano, nonché uno studente del NextCamp. Il NextCamp mi ha dato e mi continua a dare la forma mentis per diventare una persona migliore che si sviluppa costantemente giorno per giorno, non solo dal punto di vista tecnico, ma in tutte le dimensioni della persona. Infatti, grazie al NextCamp ho imparato a gestire meglio lo stress, a pormi meglio degli obiettivi, a comunicare efficacemente, a negoziare, a indagare tutti quelli che sono i miei flussi di vita e di lavoro per essere poi un professionista o un ricercatore resiliente e flessibile. La mia ricerca durante il NextCamp si è incentrata sugli argomenti che più sono di mio interesse. Innanzitutto, sono partito studiando i sistemi elettronici digitali, in particolare le architetture dei sistemi eterogenei. Dopodiché sono andato più a fondo nelle architetture e tramite prototipazione e sviluppo in FPGA sono passato allo studio di architetture per domini specifici. Questo ha dato come frutto un'implementazione della FFT, la trasformata veloce di Fourier, che è un algoritmo molto diffuso nel processing dei segnali digitali per la loro analisi e manipolazione. Grazie al NextLab e al NextCamp sono stato assunto per un progetto di rotazione di 18 mesi all'interno dell'Adaptive and Embedded Computing Group di Advanced Micro Devices, conosciuta anche come AMD. Questo gruppo si occupa principalmente di Field Programmable Gate Array, ovvero l'FPGA, e dei sistemi embedded. Grazie a questa esperienza di rotazione ho avuto la fortuna di poter andare un po' in giro per il mondo. Sono stato in America, a San José, in California, e anche a Dublino, in Irlanda. Attualmente sono all'ufficio di Milano, ma presto farò altri viaggi. Le esperienze sono state tutte incredibilmente positive, anche perché si sposano con quelle che sono le mie ambizioni, le mie ispirazioni, e sono sempre state le mie curiosità. La possibilità di vedere diverse realtà, diversi modi di lavoro, tutti all'avanguardia, sempre a che fare con la migliore tecnologia che c'è, è a dir poco galvanizzante. Per quanto riguarda il mio futuro, visto che sono al quinto ed ultimo anno di Electronics Engineering, conto di terminare la tesi che sto attualmente scrivendo in azienda, per poi conseguire la laurea. E in futuro, nel 2025, al termine dei 18 mesi di rotazione, diventare ufficialmente un ingegnere in AMD. Consiglierei il Nescamp a tutti gli studenti che hanno una grande motivazione e sono molto ambiziosi. Questo, infatti, è un'esperienza formativa unica, che richiede tanto, tanto impegno. Ti dà la possibilità di fare esperienze che altrimenti non potresti fare, e ti trasforma da un aspirante ingegnere ad un vero e proprio professionista, capace di affrontare il mondo del lavoro e della ricerca in maniera davvero flessibile.